La metafisica di Aristotele, libro settimo. Il libro settimo della metafisica si apre con la constatazione secondo cui to on leghetai pollacos, l'essere a molteplici significati, l'essere si dice in molti modi. Se nel sesto libro si erano trattati i significati deboli dell'essere, l'essere come accidentale e l'essere come vero, adesso si prendono in esame i significati forti dell'essere, in primo luogo l'essere delle categorie. Va subito notato che, pur essendo dieci, tutte le categorie nel loro essere dipendono direttamente dall'essere della prima, cioè dalla sostanza usia. Di un soggetto, ad esempio Socrate, ci si può chiedere che cos'è o quali sono le qualità o quanto è alto o dov'è e così via, e le risposte a queste domande indicano ciò che si può predicare del soggetto. Ciascuna di esse indica un tipo diverso di predicati e ciascuno di questi predicati è una categoria, ossia un modo di categorewin, cioè predicare. Categorewin vuol dire dire, predicare intorno al soggetto. Le categorie sono modi di predicare intorno al soggetto. Secondo Aristotele dieci sono le categorie. La sostanza, ad esempio Socrate uomo, la quantità, un metro e mezzo, la qualità, bianco o filosofo, la relazione, figlio di sovronisco, il luogo, nel carcere, il tempo, l'anno della morte, la situazione, star seduto, l'avere, indossare il mantello, l'agire, il bagnare, il subire, l'essere bagnato. Classificare queste categorie o predicati equivale per Aristotele a classificare cose o eventi. Per esempio dire che Socrate nel carcere, dove la categoria di luogo è predicato del soggetto Socrate, comporta che il carcere è un luogo. Il mondo stesso allora si configura come un insieme di sostanze individuali, Socrate, la casa, il cavallo, e ciascuna di queste sostanze individuali è un todeti, un questa cosa qui, la cosa dinanzi alla quale mi trovo. Tutte le altre categorie esistono in riferimento alla categoria di sostanza. Se non si desse la categoria di sostanza non potrebbero nemmeno darsi le altre categorie. Come potrebbe esistere il bianco se non si desse una sostanza a cui inerisce? Potrebbe mai esistere l'essere alto un metro e mezzo se non in riferimento a una sostanza concreta? Certamente no, dice Aristotele. Ne segue che il problema dell'essere può e deve essere inteso come problema della sostanza, sicché la domanda che cos'è l'essere deve essere letta come domanda che cos'è la sostanza, ed è quello che hanno fatto anche i filosofi precedenti. Heidegger rileverà come l'intuizione di Aristotele, ossia l'esigenza di indagare l'essere in quanto essere, è indubbiamente geniale, ma il filosofo greco ha peccato quando dall'indagine dell'essere è scivolato a quella della sostanza, in una forma di oblio dell'essere, come Heidegger lo chiama. Nel tentativo di connotare la sostanza, Aristotele dà molte definizioni, che spesso sembrano addirittura contraddittorie. Il primo problema che egli si pone è di marca teologica e consiste nel domandarsi di quale genere siano le sostanze esistenti. Dobbiamo ammettere che esistano sostanze materiali solo, cioè di genere sensibile, o è meglio ipotizzare che, oltre a quelle materiali, vi siano anche sostanze sovrasensibili? Questo nodo problematico era già stato affrontato nel terzo libro, sulle aporie, in cui la tesi naturalistica di chi non vedeva altra sostanza all'infuori di quella materiale era affiancata dall'antitesi platonica del mondo delle idee. Non sembra sbagliato sostenere che è questo il problema centrale della metafisica, quello intorno al quale orbita l'intera opera e che troverà una definitiva soluzione nel libro dodicesimo, con l'ammissione dell'esistenza di un dio assolutamente immateriale. Ma oltre a chiarire di quale genere sia la sostanza, materiale, sovrasensibile o tutte due le cose insieme, è bene domandarsi anche che cosa essa sia. Che cos'è la sostanza? È materia o è forma? O forse è sintesi di materia e forma? Synolon, sinolo secondo la definizione aristotelica che dice la sintesi di materia e forma, l'unione inscindibile delle due. A rigore, dice Aristotele, deve essere prima affrontato il problema del cosa sia la sostanza rispetto a quello del di che genere essa sia, poiché è solo muovendo dalla comprensione dell'essenza di una cosa che si possono predicare le caratteristiche che le spettano.